Una violenta lite con la madre il giorno di Santo Stefano, il 17enne marocchino abbandona la sua casa di Santa Maria di Sala dicendoli non voler tornare. In tasca un coltello da cucina e una manciata di spiccioli da spendere immediatamente per un certo numero di birre. Poi il tentativo di procurarsene altri, minacciando con l'arma qualsiasi coetaneo si trovi sulla sua strada. Alle 21 si fa consegnare 15 euro una bicicletta da un 18enne residente nella zona, che rimane leggermente ferito a una mano. Neppure un'ora dopo ritenta il colpo ai danni di un altro ragazzo. Ma gli amici di quest'ultimo non ci stanno e si ribellano, dando inizio a un inseguimento a cui partecipa buona parte della cittadinanza. Una vera e propria caccia all'uomo a cui il giovanissimo rapinatore sfugge per un pelo, abbandonando la borsa piena di indumenti che aveva portato via di casa. Un indizio più che sufficiente per consentire ai carabinieri della vicina stazione di Mirano di risalire all'identità del fuggiasco di cui la madre aveva denunciato la scomparsa. Tornato di soppiato a casa durante la notte, il giovane marocchino trova i militari ad aspettarlo. Portato in caserma, ammette le sue responsabilità e tutt'altro che pentito promette vendetta facendo scoppiare in lacrime la madre. Del suo caso si occuperà il tribunale dei minori. Ulteriori indagini sono in corso per capire se lo stesso giovane sia il protagonista di un episodio simile avvenuto al 9 dicembre, quando un quattordicenne del posto era stato assalito mentre andava a scuola, afferrato al collo e derubato del telefono.